Allora ragazzi, volevo parlarvi un attimino di una situazione Allora, inizio col dirvi che in un anno penso mi abbiate conosciuta abbastanza, soprattutto più di quello passato e avete capito che sono una ragazza che va diretta al punto senza troppi giri di parole o senza prese in giro e quant'altro Quindi mi sembrava giusto dirvi che io e Andrea non siamo più fidanzati ma non perché io debba giustificarmi o darvi spiegazioni chissà per quale motivo semplicemente perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso ed è stata un'esperienza incredibile che apro e chiudo parentesi auguro a tutti voi e per questo avendo sempre condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle, quelle brutte, ve le ho messe mi sembrava insomma il minimo perché la mia storia è nata in un programma meraviglioso ed è stata un'esperienza incredibile che apro e chiudo parentesi auguro a tutti voi e per questo avendo sempre condiviso ogni tipo di situazione, soprattutto quelle belle, quelle brutte, ve le ho messe mi sembrava insomma il minimo aggiornarvi di questa situazione, se così possiamo dire considerando che io non debba starvi ad elencare tutti quanti i motivi perché non mi sembra il caso e perché i panni sporchi noi li abbiamo sempre lavati in casa ci tenevo a farvelo sapere anche perché molti di voi l'avevano già capito e non mi sembrava bello continuare a far finta di nulla anche perché non ha senso posso dirvi semplicemente che come tutte le cose brutte purtroppo per fortuna anche quelle belle passano posso dirvi che secondo me il mio punto di vista quando una relazione finisce è colpa sempre di entrambi quindi non c'è bisogno di schieramenti, storie e quant'altro se potete rispettate un attimino questa situazione se volete fregarmene e continuare a domandare, chiedere, curiosare più del dovuto sappiate che non riceverete mai più risposta o spiegazioni al riguardo però mi sentivo comunque di fare un attimino di chiarezza ecco per il resto tutto ok raga direi che questo 4-0 pocherante dell'Inter ci porta un po' di serenità e un po' di fiducia considerando che il Cagliari senza offesa praticamente erano rimasti in bagno e in spogliatoio ci dà un po' di fiducia ciao 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 ciao